Grazie a tutti Purtroppo potete trovare tutte le altre date E tutte le location Su www.ticketwork.it E i biglietti ovviamente E i vip pack Gentleman Tour dal 9 febbraio A niente non è Igor? No sono io Non è la stessa cosa Luca 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 perché non lucidi tu? Non lucidi? Lucidi 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 Lucidi